Salve a tutti, benvenuti in questo tutorial in cui cercherò di spiegare come installare il programma TeamSpeak. Che cos'è innanzitutto TeamSpeak? È un programma per la chat audio e scritta, utilizzato ufficialmente dal movimento Zeitgeist Italia per i propri incontri nazionali, ufficiali e non. Allora, cerchiamo di spiegare quanto più brevemente, in modo più semplice possibile come installarlo. Allora, prima di tutto andiamo sul nostro bel motore di ricerca Google e scriviamo TeamSpeak. Ecco, come potete vedere apparirà già nelle nostre ricerche. Ecco, il primo risultato. Ci cliccate sopra, attendete il download della pagina e andiamo su Downloads. Installiamo il TeamSpeak 3. Ora, a seconda dei vostri sistemi operativi Windows, MacOS, Linux e ci sono altri sistemi operativi alternativi e a seconda del vostro tipo di sistema operativo, ovvero a 32-bit o a 64-bit. Io ho un sistema operativo a 64-bit quindi lo scaricherò così. Ci vedremo questa pagina, voi la scorrete semplicemente, tutta quanta, e facciamo su I Agree. E attendiamo il download. Una volta terminato il download, dobbiamo semplicemente andare sul nostro bel programmino, cliccandoci sul tasto destro e eseguiamo come amministratore. Aspettiamo che venga scompattato. Ecco qui, questo è il setup. Allora, clicchiamo innanzitutto su Next. I Agree. Ancora, questa è un'opzione per selezionare l'uso del programma solo per l'utente corrente oppure per tutti gli utenti che usano questo computer, praticamente, il vostro computer. Io selezionerò solo per me. Clicco su Next, ancora su Next, ancora. Questa creerà la cartella automatica nel vostro menu Start. Attendiamo. Ecco qui, ha finito. Clicchiamo su Close ed andiamo a lanciare il nostro bel programmino. Ecco qui. Questo è TeamSpeak. Allora, innanzitutto, prima di entrare, vi consiglio di settare qualche piccola impostazione che vi sarà molto utile. Innanzitutto, andiamo nel setup wizard. A voi che lo farete per la prima volta, vi apparirà automaticamente una volta aperto il programma, quindi non ci sarà alcun problema. Andiamo su Next. Ci scriviamo qui nel nostro nickname, il nostro nome o nickname, seguito dalla nostra città di provenienza. Clicchiamo su Next. Questa è un'opzione molto importante, ovvero il Push to Talk. Che cos'è? È un'impostazione che vi permette di parlare quando si premerà un determinato tasto da voi assegnato, onde evitare problemi di eco o quant'altro. Come si seleziona? Andando semplicemente nella casellina, selezionando innanzitutto l'opzione Push to Talk, andando in questa casellina, ci clicchiamo, vi apparirà questa finestrina grigia. Voi dovrete cliccare un tasto da assegnare appunto. Io vi consiglio il tasto Alt-Gr. Un altro fatto. Esso lo memorizzerà. Clicchiamo ancora su Next. Qui potremo fare il test del nostro microfono. Una volta configurato, cliccate sopra, apparirà una barra e se configurato correttamente questa barra si muoverà. Andiamo ancora su Next. Questo è lo Speaker's Mute. Significa silenziare gli vostri autoparlanti cliccando semplicemente su questa casellina. Apparirà sempre la nostra finestrina grigia da settare. Se io vi consiglio il tasto Alt. Facciamo. Ok, perfetto. Andiamo su Next. Questa è l'opzione per le voci maschile e femminili che vi avviseranno ogni qual volta un utente entrerà, uscirà da una stanza e che noi successivamente andremo a rimuovere. Quindi per adesso questa non la consideriamo proprio. Clicchiamo ancora su Next. Ancora su Next. E su Finish. Perfetto. Vi indirizzerà una pagina, voi chiudetela e ritornate su TeamSpeak. In questo programma ogni qual volta un utente entra o esce da una stanza praticamente una voce vi avviserà. Può risultare molto fastidioso durante una conversazione quindi andremo a rimuovere questa opzione molto facilmente. Allora innanzitutto andiamo su Settings. Poi su Options. In questa colonnina ne andremo a selezionare le Notifications. Selezioniamo e selezioniamo in questa casellina Sound Deactivated. Clicchiamo su OK. Ecco qui, perfetto. Adesso nessuna cucina vi disturberà più e voi potrete parlare in tutta calma. Inoltre TeamSpeak permette di registrare, registrare una conversazione per poi poterla tenere oppure passarla a un vostro amico. Per registrare basta semplicemente andare sul tasto Tools, Start Recording, cliccare una volta effettuato l'accesso, selezionare la nostra cartella dove andremo appunto a inserire il nostro file. Qui possiamo selezionare solo unicamente un unico formato e andiamo su Salva. Una volta salvato il nostro contatto si illuminerà di rosso e questo sarà il segno che appunto stiamo registrando. Qui appunto c'è scritto Recording. Per terminare andiamo su Tools, Stop Recording e adesso il nostro contatto è diventato di nuovo di colore nero ed abbiamo stoppato la registrazione. Allora, adesso entriamo materialmente nel programma. Selezioniamo Connections, Connect e inseriamo i seguenti dati nei campi che a voi saranno avuti una volta installato per la prima volta. Nel sotto server address voi ci andrete a scrivere teamspeak.zeitgeist-movement.com sotto la barra nickname, il vostro bel nome e la città di provenienza. Qui nel server password ci andrete a scrivere TZM. Torino Zebra Movimento. Cliccate su Connect. Ed ecco qui, siete entrati in TeamSpeak. Sulla sinistra ecco qui tutti i capitoli internazionali, europei, nordamericani, eccetera. Qui scorrendoli noterete appunto il chapter Italia. Oppure se vi interessa potrete partecipare alle altre conversazioni semplicemente entrando in una stanza attraverso un doppio clic, come sto facendo adesso. Ecco qui. Una volta entrati in una stanza sarà possibile anche chattare attraverso la scrittura a mano. In questo momento sono entrato appunto nella stanza dell'Italian Chapter, sono da solo, e praticamente scorriamo qui queste due caselline. voi per poter parlare e visualizzare appunto ciò che stanno scrivendo gli attivisti del movimento in quel momento, appunto dovete cliccare su questa stanzetta che avrà lo stesso nome del capitolo, selezionato, e qui in questa barra potrete scriverci. Scrivo ciao. Una volta scritto ciao, premiamo su invio e praticamente sarà visualizzato da tutti. Allora, per vedere se tutte le impostazioni sono state fatte bene, praticamente schiacciate il vostro tasto col push to talk, selezionato con alt e greve come consigliato. Una volta illuminato questo pallino diciamo, questo rileverà che voi state parlando e gli utenti vi stanno ascoltando. Una volta rilasciato il tasto e questo si spegnerà. E voi, praticamente le persone non vi ascolteranno più. Perfetto, credo di avervi spiegato tutto. Se farete tutte queste semplici opzioni e operazioni assolutamente non sarà difficile poter conversare con i nostri nuovi amici del movimento Zeitgeist. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.